Voglio fare un esperimento, dato che non c'eravamo mai riusciti, ho deciso di portarvi le pagelle mattutine, quindi un bel risveglio con le pagelle della Juventus, di questo Juventus Sporting, vittoria importantissima, pesantissima anche secondo me per 1-0, perché se la Juve riesce a portare a casa una partita del genere dove sicuramente non meritava la vittoria, beh, ha fatto decisamente il massimo che poteva, perché davvero questa sera il risultato non doveva essere di questo tipo, lo Sporting torna sicuramente in Portogallo con un po' di rammarico e in vista della partita di ritorno appunto a Lisbona, ecco, arrivarci con un vantaggio mi fa rimanere molto più tranquillo, anche se giocare una partita del genere là equivale a tornare a casa a leccarsi le ferite, quindi ci siamo giocati un jolly, un jolly molto molto grosso, perché una partita del genere difficilmente la vinci, abbiamo la possibilità di invece andare avanti forti del fatto che questa sera ci è andata bene, vi invito a guardare anche il post partita, ve lo lascio comunque qui sopra nelle schede, vi ringrazio perché a poche ore dalla pubblicazione sta andando decisamente bene e domani mattina sicuramente andrà ancora meglio, anche con questo mini spam. 4 e mezzo all'allenatore, a Max Allegri, mi dispiace tanto, mi dispiace tanto perché in questo momento sto dicendo che la Juve deve iniziare a volare, la Juve ora deve iniziare a volare, non è francamente più accettabile qualcosa di questo tipo arrivati a questo punto della stagione se davvero si vuole vincere. La cosa che non mi piace, più di tutte, quella che proprio più di tutte non mi piace, è che venga provato un modulo differente, una disposizione differente, andare a cambiare quello che è stato un punto forte, quindi il centrocampo a tre, inserire tre attaccanti tanto per inserirli senza andare a massimizzare quelle che sono le caratteristiche. Perché se poi Chiesa è costretto a venire a fare la mezzala di destra, se poi Di Maria è costretto ad abbassarsi sempre a prendere il pallone, se poi Milik è abbandonato a se stesso, se poi Kostic non può rendere al suo meglio proprio perché in quella posizione c'è pure Chiesa. Se Rabiolo e Catelli soffrono per la mancanza di Niccolò Fagioli allora mi chiedo a quale pro fare un cambio di formazione, a quale pro utilizzare il tridente? Delle due avanti col 3-5-2 classico o se proprio proprio vuoi fare il tridente non puoi prescindere dai tre a centrocampo fai 4-3-3. Quindi la domanda è perché, per quale motivazione tecnico-tattica Allegri è schierato una formazione differente da quella solita e perché il tridente non riesce a migliorare la Juventus, anzi la va a peggiorare. Queste sono secondo me domande importanti, io capisco che in questo momento si voglia provare a sfruttare e dico giustamente Chiesa, Di Maria, Milik, la possibilità di andare sugli esterni, la possibilità di massimizzare questo gioco uno contro uno. Però poi i giocatori devono essere messi nella condizione migliore per poterlo fare, senza doversi sempre abbassare, senza doversi sempre sacrificare. È ovvio che ci sarà da soffrire, da sacrificarsi per il compagno in alcune fasi della partita, ma non puoi portarti sempre gli avversari in area e sperare che con una ripartenza, che tra l'altro non sappiamo fare, si possa riuscire a risolvere completamente una partita con questo grado di importanza e di difficoltà. Perché sicuramente per essere una partita d'Europa League, per essere il finale di un'Europa League, il livello è abbastanza alto, è un livello mediamente alto. Quindi se vuoi portarti a casa, se vuoi evitare brutte figure, queste sono cose da puntarsi e da non far più. Ci riusciremo, non ci riusciremo? Passa tutto da come decidi approcciare le partite. L'approccio fa tutta la differenza del mondo, non mi stancherò mai di dirlo. E l'approccio della Juve contro lo Sporting in casa non mi è piaciuto e passa da allenatore. Questo va a motivare il voto molto basso, che purtroppo mi ritrovo costretto a attribuire ad Allegri. Voto 6,5 a Scesni, che proprio cito Allegri non lo vuole neanche il diavolo. Mi ha fatto morire quel pezzo di intervista dell'allenatore della Juventus. È stato bellissimo invece vedere Scesni e Perini abbracciati insieme. Anche Scesni mi ha fatto morire quando dice Perini è quello bravo a parlare, io invece sono quello bello. Si respira quest'aria di gruppo, questa voglia di stare insieme, di unità. E sapere che per Tech è stato soltanto un falso allarme, è un sospiro di sollievo incredibile. Ha fatto delle belle parate quando è stato presente in campo. È uno dei migliori in campo della Juventus, perché ha risposto assolutamente presente. Poi quello che l'ha sostituito si è addirittura superato. Ragazzi, non è facile. Non è facile per uno che sa che non giocherà, per uno che sa che ha un ruolo di vice, per uno che vede che tra l'altro il primo sta facendo una buona partita, subentrare, entrare e rispondere con una prestazione di questo livello in Europa. Non è facile. Mattia Perin è un fenomeno per quella che è la sua categoria. Quindi portieri di riselva. È un fenomeno. Sette e mezzo ci tiene in vita. La doppia parata nel finale con Galvez e su Beyerine è qualcosa di fantascientifico. La Juventus non può permettersi di subire così tanto, non può permettersi di ritrovarsi in una partita in cui va in vantaggio per grazia divina. di ritrovarsi poi a regalare una doppia occasione nel finale appunto agli avversari con il portiere costretto a sperarsi in due occasioni. Da rivedere completamente. Voto 7 a Gatti. Perché il micio sta rispondendo presente. Sono veramente molto contento di questa cosa. È quello che vi ho sempre detto su Gatti. Perché io vedevo che c'erano delle bocciature definitive su Gatti. E vi dicevo ragazzi, questo è alla prima stagione in Serie A. È alla prima stagione con la Juventus. Non è possibile che arrivi e sia già pronto per giocare. Io vi dico la verità, io sono stupito, io sono meravigliato di vedere un Gatti che dopo questo momento in cui aveva perso un po' la titolarità, anzi completamente la titolarità, e aveva perso anche la rotazione nelle gerarchie, di ritrovarmelo così. Sono meravigliato, sono stupito, perché mai mi sarei aspettato già un impatto di questo tipo la prima stagione in bianco-nero. Quindi si sta veramente mangiando delle tappe, sta saltando delle tappe e arrivare a risolvere anche una partita europea da marcatore è veramente meraviglioso. Quindi voto 7 a Gatti che è il match winner, tap-in veramente facile, ma quel centimetro di spinta del pallone che è così facile nella realtà a livello fisico, per Federico è stato un viaggio incredibile, la coronazione di un sogno, il non arrendersi mai, il crederci e il continuare a lavorare per migliorarsi, perché poi le soddisfazioni arrivano. E credo che sia stato ampiamente ripagato. Un'emozione che si porterà dietro per il resto della sua vita, apro e chiudo a parentesi, meritatissima. Voto 6 e mezzo a Bremer, perché ecco vi dico Bremer e Danilo, 6 e mezzo a tutti e due. Vi faccio una sorta di riassunto generale, perché i due portieri, so che strano parlare dei due portieri, ma è così, i due portieri e i tre difensori centrali mi sono piaciuti molto. C'è stato comunque un grado di attenzione importante da parte della retroguardia che è stata costantemente sollecitata, perché tante, tantissime volte i giocatori dello sporting arrivavano, e magari sulla tre quarti, e magari sull'esterno, e magari addirittura in area di rigore, riuscivano a trovare delle opzioni per andare a far male alla Juventus, e nonostante tutto questo stress, nonostante tutto questo forcing all'area di rigore della Juve, parate dei portieri e interventi dei centrali. La partita la risolve la difesa, i portieri parano, i difensori segnano, quindi la partita tu la vinci, perché i tre centrali, i due portieri, hanno fatto una partita veramente importante a livello di standard, e Danilo e Bremer non si sono tirati indietro, erano diffidati, hanno fatto comunque la loro partita, e quindi questa è una buona notizia, buona, buonissima notizia. 8-5 a quadrado, che continua, secondo me, sulla falsa riga di Inter-Lazio, una prestazione non all'altezza, ma quando spingi così poco sugli esterni, a maggior ragione sulla destra, dove non c'era niente e nessuno, perché non essendoci fagioli, la mezzala di destra non esisteva, ogni tanto doveva andare a ricoprire Chiesa con la posizione addirittura ogni tanto di Maria, e allora dalla destra bisogna spingere, perché già manca il giocatore a centro campo, se non spingere nemmeno sull'esterno, quindi una corsia completamente vuota, che ogni tanto veniva occupata, udite udite addirittura, proprio da Federico Gatti, che cercava addirittura la sovrapposizione, cercava di entrare in area, cercava di spingere, troppo poco, troppo poco per un giocatore come Quadrado, ed è veramente un peccato. 5-5 a Locatelli, una prestazione veramente brutta di Locatelli, non so se è perché giocava in una posizione differente rispetto allo solito leggermente spostato e non così centrale, o perché mancava effettivamente un giocatore al suo fianco, secondo me è più la seconda. Insomma, Locatelli è andato in seria difficoltà, vista l'abitudine di giocare con Niccolò Fagioli al suo fianco, e come dicevo nel video post partita, secondo me, sono due giocatori che si completano e si migliorano a vicenda. Rivedibile, assolutamente rivedibile Locatelli che è un po', secondo me, il giocatore termometro di questa Juventus, passatemi il termine, la cartina di Tornasole. Le prestazioni più convincenti della Juve, secondo me, combaciano anche con le prestazioni più convincenti di due giocatori che sono Locatelli e Di Maria. Se Locatelli riesce a metterci la struttura e quindi la copertura e Di Maria riesce a metterci la qualità negli ultimi metri, la Juventus gioca delle partite di livello più alto. Quando questi due giocatori sono sotto tono vediamo delle partite molto brutte da parte della Juve perché sono qualità e quantità e Locatelli non ha fatto una buona partita. Così come secondo me non ha fatto una buona partita Rabiot, leggermente meglio di Locatelli ma si allontani dalla sufficienza. Tra l'altro leggevo che in queste ore la Juventus e la mamma Veronique stanno parlando per trovarsi effettivamente eventualmente per un reno di contratto. Vedremo però anche Rabiot secondo me ha faticato e ha sofferto il fatto di essere in una mediana 2 non perché non sappia giocarci secondo me si arrabbiò che i Locatelli sono bravissimi a giocare in una mediana 2 ma non sono abituati in primis dato che quest'anno stanno giocando in un altro modo e la partita è stata preparata male quindi sono andati secondo me in affanno entrambi e addirittura sembrava di arrivare sempre in ritardo sui centrocampisti e avversari sembrava esserci un giocatore in più a centrocampo ma anche loro giocavano con due mediani semplicemente messi meglio in campo che ci sgattaiolavano via un po' troppo spesso 4.5 a Kostic Interlazio e Sporting male se non malissimo non si è visto non ho ricordi francamente della partita di Kostic forse è stanco anche lui se lo meriterebbe ci sta che sia stanco perché le sta giocando davvero tutte Allegri lo leva per passare al 4-3-3 puro vediamo se già col Sassuolo può essere tra virgolette uno dei sacrificati in vista di un cambio di modulo che potrebbe arrivare punto di domanda non ho idea non lo so Kostic mi è sembrato uno dei giocatori più determinanti di tutta la stagione sicuramente questo giocatore che ha rallentato in questo momento la Juventus lo sta notando e i tifosi della Juventus lo stanno notando con i risultati perché Kostic in questo momento non va come prima voto 6 a Chiesa che invece è andato è l'unico sufficiente davanti ve lo dico subito perché ha messo tantissima corsa all'interno di questa partita ha provato sempre a puntare l'uomo ha cercato spesso e volentieri uno contro uno il cambio di direzione il cambio di passo sono risposte incoraggianti da parte di un Federico Chiesa che per forza di cose non può essere ancora al top potrebbe arrivare al top potrebbe raggiungerlo in questo finale di stagione me lo auguro per lui in vista anche della prossima sicuramente Chiesa è stato uno di quelli che ha sofferto di più questo caos questa anarchia tattica della partita di stasera però sai già quando sei in difficoltà però poi tu riesci a rispondere con una prestazione fisica di questo livello capisci che comunque forse il peggio è alle spalle ora si tratta soltanto di trovare un po' più di continuità di mettere minuti nelle gambe e di alzare il livello delle prestazioni quindi la sufficienza penso che Chiesa se la meriti alla grandissima non se la merita Di Maria 5 secco bocciato non mi è piaciuto impreciso tante volte cercare una giocata forse più bella che utile io vorrei ritornare un attimino al Di Maria post mondiale dove veramente stava facendo delle meraviglie e ritornare al Di Maria dell'Europa League perché non dimentichiamoci che Di Maria è il capocannoniere dell'Euventus dell'Europa League e che sia col Nantes sia con il Friburgo è stato determinante quindi speriamo che possa esserlo anche con il Benfica al ritorno sia col Benfica magari sono rimasto in Champions con lo Sporting Lisbona al ritorno a Lisbona perché è il giocatore che deve veramente fare la differenza per la Juventus c'è poco da fare giocatore in più Milik voto 5 che entra sicuramente meglio di Vlaovic all'interno di un discorso di rifinitura di dialogo con i compagni quando arriva la palla Milik riesce a scaricarla anche di prima risparviare un tempo di gioco e dare un po' più di velocità alla manovra però un pochino indietro di condizioni a livello fisico mi è sembrato forse non è ancora pronto per giocare titolare dato che anche lui è stato infortunato e rientrato giocatore importante che ha dei colpi sicuramente ma che ha offerto una prestazione palesemente insufficiente si porta a casa il suo 5 anche se come dicevamo prima ha abbandonato abbastanza a se stesso per via della disposizione tattica che secondo me è stata completamente sbagliata 5.5 a Vlaovic che quando è entrato ha preso un giallo che per me non c'era nemmeno però quando entri ancora un po' più cattivo tra l'altro il gol di Gatti nasce proprio da una sventagliata di Di Maria poi una mischia e Vlaovic la prende in aria e non fa gol inizia a essere una cosa abbastanza stancante logorante l'ho visto bello sorridente quando ha segnato Gatti nonostante questo e questo sicuramente è un buon segnale ma è ora di fargli trovare il gol su azione nuovamente perché questo ragazzo ha bisogno di un'azione di fiducia e adrenalina incredibile perché se no rischia di veramente rovinarsi questo finale di stagione 8.5 a Fagioli anche lui è entrato e secondo me è stato abbastanza messo in difficoltà anche dal fatto che poi sul finale Allegri è voluto andare 4-4-2 con con Pogba a sinistra Fagioli a destra quindi una roba che io sono sempre contrario a vedere il 4-4-2 con 4 centrocampisti pure una roba che io proprio non ce la faccio a Londra l'anno scorso quel Chelsea non era andata particolarmente bene Fagioli sicuramente non si trova su oggi in quella posizione e Fagioli un altro secondo me che in questo momento è un po' stanco qui nella testa penso anche che sia normale non ha mai fatto una stagione di questo tipo una stagione così lunga e complicata una stagione con così tanto stress anche perché già di solito una stagione di Juventus è stressante se aggiungiamo che la prima della sua carriera è tutto quello che è accaduto dentro e fuori dal campo credo che sia francamente accettabile un po' di stanchezza mentale anche da parte di Fagioli senza voto a Pogba senza voto a Paredes si parietto curioso quello di Allegri che prima voleva mettere Miretti poi invece cambia il cambio mette Paredes poi non si capisce non c'è probabilmente la maglia non ho capito Paredes che inizia a correre via dallo spogliatoio Pogba entra subentra fa l'esterno come ai vecchi tempi come una volta nel 4-4-2 storto sicuramente Pogba aveva bisogno di ritrovare un po' di confidenza con il campo non sono i 5 minuti più recupero 7 minuti più recupero che ci fanno dire Pogba è tornato quello lo potremmo dire soltanto in seguito a una buona dose di partite un buon minutaggio e magari qualche partita pure dall'inizio contento di averlo rivisto in campo chissà che col Sassuolo possa esserci spazio maggiormente per lui che ha veramente bisogno adesso di giocare e capire che il suo corpo può raggiungere diversi standard e capire quali sono gli standard che può raggiungere attualmente fatemi sapere se queste pagelle mattutine sono state di vostro gradimento noi ci vediamo nel pomeriggio con un altro contenuto un abbraccio buona giornata